Con la nomina Ministro degli Esteri siamo forse al punto più alto della carriera politica di Galeazzo Ciano. Appartiene ad una famiglia potente, il padre Costanzo, è un ras del fascismo. In particolare proprio qui a Livorno dove noi siamo la famiglia Ciano ha un'influenza enorme. Persino questo giornale, persino questo palazzo dove stiamo registrando questa trasmissione è frutto della famiglia Ciano perché a un certo punto si impossessano del giornale della loro città. Il Telegrafo allora si chiamava e quel giorno il giornale da grande risalto apre a nove colonne con la nomina del Ministro. Ha sposato la figlia del duce, il giornale diventa uno degli organi più influenti del regime. Ha notizie di prima mano. Galeazzo svolge da Ministro degli Esteri una politica decisamente filo-itleriana e in qualche modo convince persino Mussolini all'alleanza con la Germania nazista. Se ne pentirà immediatamente, quasi già agli albori della Seconda Guerra Mondiale. Sarà uno dei protagonisti del Gran Consiglio, la seduta del 25 luglio del 1943, quando Mussolini viene deposto nell'illusione che potesse esserci un fascismo senza Mussolini. Mussolini verrà successivamente arrestato con la nascita della Repubblica Sociale italiana, processato e condannato a morte. Mussolini non si oppone, anzi in quei 18 mesi della Repubblica Sociale appare distratto, assente, così lo definisce Renzo De Felice, uno dei maggiori storici del fascismo nella sua breve storia del fascismo. E proprio da questo libro noi leggiamo che cosa accade. Mussolini, scrive De Felice, non riuscì a intervenire neanche nel gennaio 1944, nel momento drammatico del processo di Verona e della condanna a morte degli imputati. Primo fra tutti il suo ex Delfino, Galeazzo Ciano, marito di sua figlia Edda e padre dei suoi nipoti. Ebbene la parte più dura, più intransigente del fascismo repubblichino vuole la condanna a morte perché sa che così vogliono i tedeschi. Questo è l'epilogo drammatico di una storia altrettanto drammatica.